...studioso e specialista di Fontana, ma anche di letteratura umanistica spagnola, per questo dicevo raro studioso, si conosce il suo volume dedicato all'umanismo romanze di Juan de Lucia, e quindi molto piacere, e do la parola a Marco Guido. Grazie, grazie a tutti, si vede che sono amici perché appunto questa cosa è sempre molto buona, io sono specialmente orgulloso e contento di incontrarmi qui nella sede culturale, in un paese al che è solitanto vinculato a poco che i moderni sicuramente sono spagnoli, io vivo in spagnolo, come ho detto con quanto esobite, per che io non voglio dire che sia il lavoro in italiano. E naturalmente, come dicevo ieri, la lingua, come diceva il Bruni, la lingua può battere come il dente vuole, e il mio dente vuole sempre la stessa intenzione, come diceva il martedì, è dio? Samsung Grazie.